È stato un anno davvero ricco di progettualità, questo 2022 per il gruppo Giovani Imprenditori. L'ultima in ordine temporale è la missione nella città israeliana di Tel Aviv, ma vi sono stati in questi 12 mesi anche gli apericeo, ossia gli incontri pubblici con imprenditori e manager, gemellaggi, un variegato ventaglio di iniziative con le scuole e molto altro. I giovani imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti sono più che mai proiettati alle nuove sfide all'orizzonte che si tingono decisamente in rosa. Una priorità per il nuovo anno è quello di lavorare con le studentesse per abbattere quel muro di discriminazione per cui una ragazza, se non prende determinate scelte a livello di studi, lavoro e quant'altro, in un certo senso non si sente valorizzata. Quindi un progetto per portare alle ragazze degli esempi virtuosi di donne imprenditrici manager attive nell'ambito STEM, quindi in tutto quello che è il mondo scientifico, della matematica e quant'altro. Una progettualità che punta sulla formazione strezzando al contempo l'occhio le cosiddette professioni del futuro. In modo che questo diventi un esempio virtuoso, diciamo, e possano magari nascere delle nuove, chiamiamole, vocazioni di ragazze che sognano un loro futuro nel mondo scientifico. E guardando quei settori che esprimono le migliori potenzialità e prospettive di sviluppo e innovazione, che i giovani imprenditori continuano perciò ad investire nell'ambito delle competenze. Siamo una delle province più manifatturiere d'Italia. Io credo che gli imprenditori l'hanno già capito. Dobbiamo come comunità renderci conto che la fabbrica è cambiata. Non pensiamo più alla fabbrica come il mondo dell'operaio e il mondo in cui si svolgono meccanicamente delle operazioni senza pensarci. La fabbrica di domani è una fabbrica fatta di tecnici, di operai specializzati, di robotica che affianca le persone, insomma fatta di competenze e di persone in grado di apprenderle e di restare sempre di più al passo.